Siamo arrivati nuovi innesti in questa squadra, grazie anche al Presidente che subito si sono integrati nel gruppo. Veramente oggi, cioè stasera, finalmente siamo riusciti a mettere una squadra molto più combatta e finalmente stiamo dimostrando il valore perché fino adesso abbiamo tentennato un po' per via dei vari infortuni, però penso che questa squadra può andare benissimo a dire la sua anche per eventuale titolo del campionato. Lo facciamo dire dal Presidente, oggi arriva il quinto posto, quindi siete in piena lotta play-off e l'obiettivo è questo, no? Sì, noi l'avevamo detto, non è che abbiamo grandi ambizioni, la sfortuna sembra che ci stiamo proseguitando perché giustamente abbiamo fatto le prime cinque partite, cinque vittorie, poi ci siamo un po' persi per strada, un po' per causa degli infortuni, qualche elemento che è venuto meno. Poi per fortuna da stasera sembra che ci siamo riusciti di nuovo a combattere, abbiamo fatto qualche acquisto che sembra che già subito si è integrato e è arrivata finalmente questa bella vittoria. Domenica, sabato ci aspetta un'altra partita un po' più delicata. Speriamo di mettere questa cileggina e fermarci per Natale, giusto così con un'altra vittoria e magari ci facciamo le ferie un po' più rilassate. Mister, arriva un rotondo 8-0 questa sera e soprattutto un dato importante, la squadra ha giocato bene e raggiunge il quinto posto in classifica, utile anche per la zona play-off. Questo è il nostro obiettivo, quello di raggiungere il play-off, stiamo giocando, ma la cosa importante di oggi e di stasera è stata quella di recuperare tutti quegli infortunati che tenevo. Io ripeto, le partite scorse non sono riuscito a giocarmela, eravamo proprio delle persone contate, causa proprio cose infortuni. Sto recuperando man mano tutti e quello che voglio fare è di recuperare un pochettino di gente e di giocarmela con tutti. Perché noi la squadra non teniamo pressione, non teniamo nulla e stiamo giocando il nostro campionato, che è quello di entrare nei primi cinque per giocarci i nostri play-off, che poi andremo a vedere così. Domenica quindi vi aspetta un'altra partita importante? Sì, un'altra trasferta a Campobasso, squadra che oggi ha vinto, mi sa, mi hanno detto che è un'ottima squadra. Quindi noi sempre con i piedi per terra cerchiamo di fare quello che possiamo e quindi va bene così per il momento. Sono contento di tutti i ragazzi, il Presidente sta cercando con sacrifici enormi di portare avanti anche per quest'anno il calcio a Pietra Melara e va bene così per il momento. I nuovi innesti come li ha trovati con tutti questi nuovi arrivati? Li ho trovati bene, stanno bene sia fisicamente che atleticamente, mi hanno dato una grossa mano, una grossa risposta per adesso. Poi dobbiamo vedere in seguito, ma io ho conto di avere tutti a disposizione, che posso fare delle scelte, non essere obbligato a far giocare determinate persone, cioè nel senso che devo fare delle scelte in base alla squadra che mi trovo a giocare contro.